In occasione della giornata internazionale di diritti delle persone con disabilità, Gianni Baini e il professor Luigi Falco, in collaborazione con l'associazione AIFO, hanno presentato al numeroso pubblico aretino la loro ultima fatica letteraria dal titolo Al di là del cielo. Il libro è uscito lo scorso anno, nel maggio del 2014, è edito dall'edizione Paoline. È una storia di un'amicizia tra Gianni e me in particolare, ma anche con altre persone che lo hanno aiutato a portare avanti le sue avventure. Baini nel nuovo volume ha testimoniato con grande entusiasmo il suo amore per gli sport estremi e per la grande amicizia che lo lega al professor Falco. Quanto ha influito questo valore nella sua attività di sportivo? Sì, è importante molto, perché senza gli amici non avevamo fatto queste esperienze folle, sia dalle piccole esperienze, anche quelle grandi, tipo innalciare le paracadute, crelli come navigatore o le corse in pista a Monza con la Ferrari. Nel corso dell'incontro sono stati premiati gli studenti dell'Istituto Comprensivo Cesalpino di Arezzo per aver raggiunto la terza posizione della graduatoria italiana del concorso AIFO. Professoressa, quale sarà l'argomento per la nuova edizione? Sarà appunto sulla disabilità, i diritti, quindi quello che noi diciamo l'essere normalmente diverso. E' un tema che sentono molti ragazzi, già abbiamo iniziato una preparazione e proprio l'incontro di stasera con Gianni Baini e Luigi Falco è la prima tappa per poter cominciare a lavorare insieme verso il nuovo obiettivo di questo concorso. L'AIFO è Associazione Italiana Amici di Raul Follero, gruppi volontari, persone sono circa 2000 volontari che promuovono educazione, educazione ai diritti umani, all'inclusione, raccolta fondi, a sostegno di questa grande ONG che ha preso il nome di Follero e che è nei paesi in via di sviluppo. Da qui negli ultimi vent'anni l'AIFO è impegnata e ha dei ottimi risultati sull'integrazione e reinserimento delle persone con disabilità. Noi siamo qui a dirlo ad Arezzo, in questa scuola io sono consigliere di amministrazione e siamo impegnati nell'educare, l'educare alla diversità, l'inclusione sociale in Italia e nel mondo.